La parabola del buon samaritano Un giorno Gesù ha raccontato questa storia Un uomo scende da Gerusalemme verso Gerico E all'improvviso viene raggiunto da alcuni briganti Questi lo picchiano, lo derubano, lo spogliano E lo lasciano mezzo morto lungo la strada Poi passano per quella strada Primo un sacerdote Che non si ferma ad aiutarlo E poi un levita Che fa altrettanto Infine, per fortuna Arriva un samaritano Che si ferma per aiutarlo Gli cura le ferite con olio e vino E lo carica sul suo asinello Per portarlo In una localla Lì vicino Giunto alla localla Si prende cura di lui Per tutta la notte E la mattina seguente Paga l'albergatore E continua il proprio viaggio Perché Gesù ha inventato questa storia? Semplice Per insegnare qualcosa Cioè Ognuno di noi Può trovarsi in pericolo O in difficoltà Ognuno di noi Può avere bisogno di aiuto Ma Ognuno di noi Può essere anche come il sacerdote O come il levita Cioè una persona Che non aiuta il prossimo Nel bisogno Oppure Ognuno di noi Può aiutare gli altri Come ha fatto Il buon samaritano Quindi Gesù ci dice Io sono stato un buon samaritano Anche tu Aiuta il tuo prossimo Nel bisogno Ciao